Non era una partita facile oggi per l'Arezzo? Sì, più che guardare a me stesso, bisogna guardare la squadra. Sono contento dei due gol con questa maglia, però bisogna più pensare ai punti. Sono felice per quello che abbiamo dimostrato il secondo tempo, che siamo andati in svantaggio di due gol. Il secondo tempo siamo andati in spogliatoio, abbiamo parlato, abbiamo alzato la testa e si è visto. Abbiamo recuperato questa partita, addirittura abbiamo avuto anche occasioni per andare in vantaggio e portare a casa tre punti. Adesso bisogna soltanto impegnarsi di più, abbiamo cambiato mentalità e si è visto. Siamo contenti, siamo contentissimi. Avete cambiato mentalità, cos'è che ha fatto scantare la scintilla? Non può essere stato solo, passami il termine, le sberle rimediate con Virtus Verona e Carpi? Diciamo che qualche innesto a livello di giocatori come il difensore che è arrivato oggi si è visto che c'è più, c'è una personalità, ti dà tempi di gioco, anche a livello caratterale ha influito secondo me. Però fare un punto in 5-6 partite, quante sono, ci ha dato un bello schiaffo morale e noi abbiamo reagito bene oggi. Un po' tardi, ma l'abbiamo fatto. Adesso sabato c'è questa sfida con la Triestina. L'Arezzo ha detto il mister, ho visto una squadra ancora un po' ruffona, ha detto Camplone, poco fa quando ti ha preceduto in sala stampa, di cosa ha bisogno questa Arezzo per trovare tranquillità? Ha bisogno di ulteriori rinforzi? Ha bisogno che i giocatori iniziano a credere e a seguire maggiormente il tecnico? Allora, per la prossima partita bisogna sempre mangiare il campo, c'è poco da fare. A livello di FIFA che dice il mister, io personalmente non la vedo, magari è un po' sbagliato su giocate da errori da ragazzino. Per la questione degli acquisti non sono io che ne devo parlare. Ci hanno dato maggior fiducia, quello sicuro? Io non ne so niente, però se arriveranno i giocatori è ancora meglio, ci aiuteranno.